buongiorno oggi mi trovo ad agno in un paese sulla sponda del lago molto ben servito da scuole negozi banche e neanche lontano dall'autostrada giusto un chilone e vi farò visitare un bellissimo appartamento di tre locali e mezzo qui siamo all'entrata qui siamo appunto nella zona giorno dove c'è un bellissimo e ampio locale molto luminoso dove abbiamo l'accesso al primo balcone di questo appartamento questo balcone è di circa 14 metri quadri attorno come vedete non ci sono subito delle palazzine ma c'è anche vista aperta sul verde dalla sala possiamo accedere facilmente alla cucina che è anche abitabile e ampia completamente arredata con accesso a un secondo balcone di sempre circa 14 metri quadri questo secondo balcone serve anche le due camere di questo appartamento la camera singola e la camera matrimoniale anche da questa parte non abbiamo immediatamente facciate gli altri palazzini inoltre i due balconi sono serviti da tende per il sole nella zona giorno i pavimenti sono in parquet invece in cucina bagno e corridoio piastrellati dunque ora vado a farvi vedere anche un bel armadio a muro sempre una zona di accoglienza e poi ci adentriamo nella zona notte con estensione del corridoio e sulla sinistra andiamo prima a vedere la camera singola comunque molto ampia e appunto anche questa è servita dal balcone questo appartamento attualmente è abitato ma sarà presto libero e disponibile qui andiamo a vedere il bagno che serve questo appartamento dove troviamo il lavandino specchiera vasca bidet e dc anche questo è un bagno abbastanza ampio a destra invece andiamo a vedere la camera matrimoniale che questa è veramente super ampia e anche questa servita dal balcone se vi ha suscitato interesse questo ampio tre locali e mezzo ad agno molto ben servito chiamateci ti affitto a presto